Ti capita durante le riprese o durante la scrittura di avere un momento di crisi in cui dici ma sto raccontando bene questa storia, sto raccontando bene quest'idea. Non ti devi spaventare, devi andare all'origine. Questo me l'ha insegnato Furio Scarpelli, un grande sceneggiatore che ho avuto la fortuna di incontrare quando cominciavo a fare questo mestiere. Mi ha detto, quando giri un film ci sarà un momento in cui tu ti perdi, pensi ma che cosa sto facendo? Sto elaborando bene quell'idea, la sto illustrando bene? Se questo stai facendo vai avanti. Se ti rendi conto che quell'idea non la stai raccontando bene o quella storia non ha tutti gli elementi che avevi prima in testa, ricomincia da capo oppure comincia ad integrare. Ecco questo credo che è quello che debba fare un filmmaker, un regista, uno sceneggiatore, chiunque si accinge a proporre al pubblico un suo racconto, una sua idea.